218 miliardi di euro all'anno è questa la cifra astronomica generata dal lavoro forzato. Secondo quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori è un fenomeno in crescita. In meno di 10 anni, dal 2014 al 2023, i ricavi generati dal lavoro forzato sono aumentati del 37%. 3 miliardi di euro sono i bambini. Oggi abbiamo apprezzato che è un lucrativo business. Questo è l'equivalente del GDP di countries come Latvia o croatia. It even surpassa i riempi di grandi tecnologiche come Microsoft o Samsung. But behind queste staggianti figure, c'è l'unità di malattia. There are people who are trapped in a cycle of abuse subjected to different forms of coercion that make it impossible for them to escape jobs that they have engaged in against their will. Nella regione Asia-Pacifico si concentra il maggior numero di lavoratori sfruttati, più della metà, circa 27 milioni e mezzo di persone. Un aumento del 10% solo negli ultimi 5 anni.